ciao a tutti benvenuti nel mio canale in questo video andiamo a vedere facciamo un interattivo stesa unica per cui cerchiamo un po di adattarla alle varie situazioni tra un lui e una lei per il mese di gennaio 2023 vi ricordo che ho pubblicato la ruota dell'anno del 2023 per tutti i segni zodiacali quindi andatelo a vedere modo tale che riuscite un po a già inquadrare il nuovo anno vi avevo anche spiegato anticipato un po i transiti i transiti planetari più importanti per tutti i segni però in questa stessa vogliamo guardare un pochettino la situazione tra lui e lei andiamo a fare una bella mescolata di carta mese gennaio 2023 poi se ce la faccio vorrei fare qualche video la voce della strega che ho visto che soprattutto gli iscritti apprezzano i video la voce della strega che sono una sorta di podcast su delle tematiche esoteriche e para esoteriche allora andiamo a vedere la situazione tra lui e lei e avere innanzitutto le energie generale a posto iniziamo con i nemici tutto il mese di gennaio la separazione la paura ma sembra un po collegato alla stesa che avevo fatto io questa ce la giochiamo dopo ok andiamo poi ad aprire un po carta per carta allora 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 io qui vedo una situazione se c'è insomma se su cinque carte parliamo di lui e lei vediamo la separazione e la paura beh io vedo che insomma qui una figura se tu sei la donna se tu sei l'uomo che una figura si si allontana però poi volevo interrogare un pochettino questa questa paura può essere che qui un rapporto è destinato a finire parliamo del mese di gennaio non parliamo di insomma di tutta la vita però abbiamo la carta dei nemici il messaggio tra lui e lei potrebbe essere che queste parti tra di loro sono nemiche che si messaggiano tra di loro in una maniera nemica c'è litigio c'è astio questo corteggiamento non lo voglio interpretare perché non lo so vedo troppo un ribaltone perché nemici corteggiamento la separazione io lo vedo più come una figura maschile che si separa o voi vi separate da una da una figura maschile è questa paura io poi la voglio questa paura qui la voglio la voglio interrogare vediamo un po di andare con anche con i tarocchi grandi cerca di fartela risuonare insomma per la tua situazione si parla di una lei non è detto che si parli del lui al quale stai pensando adesso ricorda che un interattivo per il quale sto parlando con una moltitudine di persone frenesia squilibrio e irrazionalità forza fisica morale resistenza buon carattere castigo rigore pena povertà tirannia ecco qui si potrebbe avere a che fare con un personaggio diciamo tiranno prepotente al maschile visto che c'è la figura al maschile la sfruttiamo immobilità contemplazione silenzio e mi va pennello con la separazione quindi due parti che non si sentono che non si sentono neanche causa vinta giudizio eco esame logica però c'è la paura allora qui è come se c'è qualcosa che si chiude ma c'è più la preoccupazione sulle sorti di un qualcosa legato a questa chiusura cioè non vedo qui soltanto una chiusura basta finito io tramette c'è come qualcosa una preoccupazione per un qualcosa che deve essere messo a posto però diciamo questa paura anzi facciamo così questa paura viene rincuorata dalla causa vinta dal giudizio eco quindi se tu adesso hai una preoccupazione legata a un qualche tipo di separazione tra te e un'altra persona io comunque qui vedo come se non che si sistema la coppia o il rapporto perché qui non si parla necessariamente di coppia uomo donna in senso stretto ma è come se quello che è legato alla separazione poi verrà sistemato in una maniera o nell'altra anche perché qui dice giudizio giudizio equo ok niente di niente di preoccupante la vedo una stesa un po freddina per il momento forse questa carta dei nemici come se le due parti ormai sono una contro l'altra come se la situazione è così ormai le parti si sono come avete presente quando uno cala le maschere ognuno dice guarda ormai la mia posizione è questa la mia posizione è questa e quindi se qualcuno qui fingeva e quindi anche un uscire a fuori allo scoperto saggezza virtù fascino e buona amica bontà indulgenza equilibrio interiore lavoro ma io vedo che qui da parte tua cerchi di mettere un po di ordine nello squilibrio di dio credo che qua ci sono state degli scontri dei litigi perché la carta dei nemici quello oggi di quello parla ricchezza odace affascino donna bruna qui ci potrebbe essere un uomo o esserci di mezzo una donna bruna cioè nel senso che tu puoi essere la donna bruna se non sei tu la donna bruna c'è di mezzo la donna bruna però qui si parla proprio di coppia fammi vedere un po aspetta come una cascarona da qua bottino conseguenze avvertimento critica indecisione spionaggio intrighi allora forse la paura deriva da questo forse la paura deriva da questo c'è quando c'è una separazione si teme che ci si fighi si ficchino in mezzo persone spionaggio persone che appunto fanno la spia che sono contro di te no che si mettono in mezzo causa vinta però cioè come se fosse una paura che c'è per questi motivi qui come se si ficcano persone in mezzo due paura che non viene fuori la verità nella situazione però poi c'è causa vinta quindi quello fa diciamo quello fa testo vediamo con una piccola ruota della fortuna bene quasi parla di qualcosa dove di mezzo c'è l'affetto è cose di ostacolo qui è anche una come se ognuna delle parti volesse proteggere se stesso forse anche in maniera eccessiva c'è una figura maschile lo ribadisco tiranno cioè all'opposto di quello che è il cavaliere di coppe c'è una persona non finiti guarda regina di coppe e cavaliere di coppe tutte e due al contrario qui ci possono essere di mezzo segni d'acqua aspettate che mi porto su mamma mia oggi come come cambiano come cantano ste carte l'appeso che mi va a confermare la separazione anche se ho l'appeso al contrario mamma mia qui ci saranno altri litigi battibecchi questioni io ho parlato nella situazione della situazione acqua post ci posso vedere anche un nuovo incontro qua patopone in tutto sto casino in questa separazione come se qui si affiancasse subito una figura maschile vincente positiva come se non dico l'inizio un'altra storia anche se voglio dire io qui ho chiesto della coppia mi vengono carte molto belle alla fine però con un personaggio maschile vicino quindi diciamo che sono due è un po improbabile che con questa carta di separazione io poi ci vedo il 2 il 3 di il 3 di coppe se dovesse cadere la se si dovesse interrompere il video cercherò di fare la la seconda parte quindi ti avviso per vedere la seconda parte lui e lei gennaio 2023 ecco quello che mi manca quello che mi manca è l'esito dell'energia generale il pericolo ragazzi non lo so non lo so non mi piace è una situazione in cui in cui bisogna stare attenti è una situazione in cui bisogna stare attenti questa qua che vi devo dire i nemici separazione la paura il pericolo il pericolo è la carta di come fosse di risoluzione ma non è di risoluzione se qua parliamo se qua parliamo di pericolo allora andiamo a sovracchiedere alle energie generali con le sibille vediamo un po se ci danno un po chiarezza se ce le vanno un po alleggerire che cosa sono questi nemici invitano alla calma le carte però vedete io alla fine ho la fedeltà e la riuscita allora ragazze il pericolo qui io lo vedo non tanto sul discorso della separazione le carte sono contraddittorie e sincera c'ho la separazione è qua la fedeltà è riuscita e il tre di coppe è qua io quasi quasi andrei a fare la seconda parte perché necessito di fare altre domande allora parlerò finché non si interrompe il video ma necessito di fare la seconda parte sono contraddittorie le carte il pericolo che io vedo qui non è nella coppia tra la coppia quello che succede perché avevamo la causa vinta ricorda ma io il pericolo lo vedo per la donna è come se tutta questa situazione di litigio di questa tirannia come se qui la donna fosse oggetto di tirannia da parte di un uomo diventa allogorante come se qui la donna vedi va a testa in giù va a testa sotto qui ci potrebbe essere anche una questione di soldi dover mettere a posto me lo conferma quest'asso di denari è questo vedi è questo 9 a questo 9 di denari c'è forse qualcosa da sistemare però le carte ti invitano alla vedi dall'inizio della stesa sui nemici alla moderazione e saggezza e saggezza di vita facciamo così diciamo che comunque almeno per una parte di gennaio questa coppia sarà in in separazione ok io adesso voglio vedere lui verso lei le intenzioni di lui verso lei vedi il conflitto lui non vuol far pace diciamo è lei verso lui lì cerca l'equilibrio le più calma le come se volesse sistemare la situazione è come se lì avesse diciamo il potere in mano come se lì avesse il allora lui ha della rabbia nei confronti della donna perché come se lì avesse il coltello dalla parte del manico adesso vedi tu la risoluzione fra questi due invece la conquista ascolta io qui penso che ti rifò di raffa insomma la donna della questione se devo ottenere qualcosa da lui la otterrà però io vedo lui che qui è rabbioso e cattivo e mi conferma dalla come ti dicevo prima che c'era la carta della tirannia qui la donna mantiene la se lui si incazza provoca ok io vedo che qui la donna mantiene l'equilibrio vedi qui c'è la carta dell'equilibrio della donna la donna mira si se vuol chiudere alla donna mira a chiudere però mira a chiudere in una maniera diciamo equilibrata costruttiva guarda guarda qui ragazzi c'è una carta di allontanarsi dal diavolo sedi spade e al viaggio andar via allontanarsi ok qui c'è ve lo ribadisco c'è un personaggio attenzione qui c'è rabbia c'è lui c'è l'indecisione non sa cosa fare c'è rabbia da parte sua c'è voglia di litigare voglia di rinfacciare c'è indecisione da parte di lui la donna è quella che diciamo ci sta più male in questa situazione qui ma in grande grandissima ripresa è quello che ti posso dire comunque in questa situazione verrà breve per anche parlato nel me ne freghi il disinteresse di questa situazione qui dopo il dolore io vedo che la donna qui ottiene come se qui se seppur si dovesse chiudere una situazione vedo che qui la donna ottiene quello che vuole ricordatevi la causa vinta quindi il destino di questo lui e lei finale guardate ragazzi mamma mia ragazzi qua io sono più per la separazione non posso dire di no e l'allontanamento uno dei due potrebbe anche fare un viaggio ma qui io vedo l'ira la rabbia e l'allontanamento ok vedi stato morboso eccessi con lira casa io vedo qui potresti essere tu che hai desiderio di allontanarti non so anche se nel mese di gennaio qui c'è un viaggio per te uno spostamento o da casa o verso verso una casa o per conoscere qualcuno soltanto per pochi per proprio per le coppie quelle più strette ci potrebbe essere vedi un legame un ritorno ma proprio perché io nell'altra parte ho visto il 3d coppe diciamo che molti qui divideranno si divideranno con rabbia con conflitto con ira abbiamo visto in me sono uscite tutte le carte di litigio nemici ira però poi avevamo il 3d coppe cioè io vedo proprio che qui proprio soltanto le coppie quelle proprio che si vogliono bene qualcuno riuscirà proprio per rotto della cuffia come si dice a rimanere insieme però se questo dovesse succedere io prima vedo proprio un periodo di rottura di chiusura dei litigi di rinfacci di mettere a posto e se c'è curi un ricucire va verso la fine del del mese vediamo la prima settimana prima settimana difficile la donna in blocco c'è l'allontanamento ragazzi io ve lo do per certo l'allontanamento qua ci sta e no per la maggior parte io vedo la fine ragazzi proprio la fine di un ciclo doloroso doloroso dove non sono state dette delle verità dove c'è la paura dell'ignoto di quello che stanno facendo mi hanno fatto c'è il 10 di spade qui comunque ma potrebbe essere anche reciproco questo 10 di spade c'è una situazione che per la maggior parte dei casi vediamo l'esito finale di tutto il mese il viaggio me lo da di nuovo però 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 per ragazzi ho la chiusura ce l'ho ho la morte per me è più roba di separazione per pochissimi per rotto della cuffia si può rimanere insieme ma per me ma la maggior parte che hanno risuonanza risonanza in questa stesa c'è una separazione ragazzi c'è la morte c'era la separazione però la donna qui se deve avere dei soldi io vedo che ce li ha e c'è uno spostamento un viaggio quindi viaggio spostamento e chiusura di un rapporto va bene e c'è anche una donna che si vuole rifare automobile ragazzo qua vedo proprio lo spostamento non so come dirvelo io proprio il viaggio lo spostamento ok è l'esigenza di di riprenderti un po le candele mi rimandano proprio a rilassarsi stare belli tranquilli ragazzi è un rapporto qui si chiude non so con chi non so perché ma quel rapporto si chiude va bene c'è rabbia c'è rancore c'è c'è lotta però qui come se il potere in mano c'era la donna se la donna deve avere qualcosa la lotterà e causando la rabbia di due come se qui lui c'è quello più rabbioso e lui ok se vuoi fare un consulto privato ti lascio il mio indirizzo email che è neri 96 gmail.com adesso vorrei andare a fare ma facciamo così io continuo a parlare con la stessa considerate la stessa chiusa e conclusa siccome non ricordo quanta memoria o il video si potrebbe interrompere da un momento all'altro ok quindi adesso parlo un altro pochettino ruota se continuo a parlare comunque la stessa è finita sapete perché tra l'altro voglio continuare a parlare perché voglio capire quanti minuti ho di memoria quindi se sto parlando faccio una domandina e rimane a metà considerate comunque fate affidamento quello che fa fede è la stessa la stessa che ho fatto ok vediamo la differenza nel cuore di lui rispetto alle azioni cuore mamma mia come se qui c'è amore c'è un incongruenza vedete c'è un incongruenza ci sono parole taglienti come se invece c'è un'incongruenza cioè sono parole taglienti c'è l'azione cattiva ma nel cuore come se c'è se c'è un sentimento lei invece vorrebbe come un cambiamento cambiare uomo è cambiare uomo pensare ad altro lì e sulle difensive le azioni di lei lei vuole buttare tutto in aria lei si è stancata ecco perché ragazzi purtroppo in questa stessa quando ci sono tante carte pam 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 che mi danno la stessa tematica vedete sto andando sto andando a ruota mi danno mi danno questo vediamo gli elementi esterni se ci sono influenze da parte di lui ma ci sono un po come persone che vogliono parlare persone tipo che io c'ero io ero presente più persone che se c'è da dire qualcosa ne la diciamo bla 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 però cioè se voi con queste persone vi siete comportati comportati bene vediamo le questioni da risolvere si risolveranno anche molto molto velocemente e qui mi ridà la coppia le questioni invece strette strette di cuore e c'è l'allontanamento ragazzi sono tutte carte di allontanamento chiusura come la prende lui questo rottura ma lui potrebbe avere vicino delle persone essere un po influenzato e mamma mia quante persone vicino mamma mia come se si vuole riprendere come posso dire io vedo molte amicizie maschili qua come se vuole riprendere le le conoscenze le amicizie maschili come la prende lei lei ha bisogno di stare un po da sola vede guarda queste carte come sono belle qua deve essere restituito qualcosa a lei e non vuole essere fregata su un qualcosa dice anche lei vai per la tua strada ma dammi quello che mi devi dare guarda poi c'è lei che vuole riprendere lei è un periodo che si starà starà da sola per poi guardare il suo il suo avvenire ma lui si potrebbe dare anche già la pazza gioia in qualche situazione lei no lei no lei è più vive il lutto della della separazione ma per lui sarà un falso cioè sarà un come fa forse vuole vuole fare un chiodo scaccia chiudo ma poi ci sta peggio di prima lei invece ci sta male prima per poi guarda un po guarda un po lei mamma mia per lei se tu sei la lei di questa stesa ti risuona ragazzi se tu chiudi questa storia poi non dico che incontri l'uomo della tua vita ma qua c'è due di coppe dieci di denari e dieci di coppe mamma è una stesa pesante che si conclude così bella ma qui può essere che tu chiudi con questo tiranno che abbiamo visto incontri una persona veramente anche benestante stabile per una relazione felice bella sincera no invece lì io vedo dall'altra parte come se si vuole dimostrare che si sta bene ma si sta molto male ma si sta molto male si sta molto male si riguarda nostalgia come se questa persona inizialmente vuol far vedere come sto bene come sto bene invece la donna non finge questo è l'esito un po del tutto facciamo un po vediamo un po ricordatevi che se si interrompe e no le prossime mosse di lui sono che lui fa le cose alle spalle in affidabile parlare male alle spalle persona disonesta come se volesse mettere ombra sul sole sulla sua imperatrice su questa vedete questa imperatrice sul sole lui cerca di 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 offuscare come se volesse dominare comandare su questa donna no lei è più non lo sai vedo la lei più onesta più più matura nella situazione io vedo la lei più matura e più onesta nella situazione sinceramente le prossime mosse come che lì non farà niente lì non farà niente tutte carte di lasso di spade che da il taglio come se qui perdiamo tutti e due si perde tutti e due come se qua c'è anche se c'è anche una lezione da c'è anche ragazzi c'è non so che fare con questa persona troppi pensieri troppi si conclude proprio si conclude con il personaggio quel personaggio che avete con il quale avete avuto a che fare con il quale avrete a che fare in questo mese merida alla fine a questo dialogo diavolo come se fosse il sunto di di tutto non so ragazzi è come se qua ci fosse una lezione da imparare di questa storia un po come capire il limite di una relazione che sia una relazione fa male devi capire che questa relazione fa male il dispiacere le coccole è la limitazione è la limitazione capire che è come se fosse un'unione vedi qui c'è un'unione che fa male ed è una limitazione per te cosa fai la vuoi portare avanti quindi diciamo una lezione da imparare che quando ti capita una relazione del genere la devi chiudere anche se io qua poi vedo un po' che proprio per destino è arrivato lo scoccare della della mezzanotte arriva lo scoccare della mezzanotte che ti dice tam è finito il tempo di soffrire di soffrire per per amore ribadisco se si interrompe il video il video è finito faccio la seconda parte e ragazzi ci mancava solo il 3 di spade ma ragazzi in tutte le carte vedo come se questo soggetto maschile fosse un po un po il negativo ma io ho chiesto ora lui chi è la passione di indipendenza lo stregone non lo so io vedo una persona molto immatura che vuol vivere le sue passioni alla giornata come se fosse carta di immaturità cioè tanto inizio tanto prima si si accende poi vuole rimanere solo invece la lei 9 di lei no lì più stabile vi dice l'unione l'ordine una donna che vuole costruire questa coppia insieme come era destinata la famiglia la ricchezza ma diciamo che era partito come qualcosa di molto bello era partito come un qualcosa di molto bello cos'è andato storto qui sembra un po come un rapporto che ha fatto il suo non so come una ruota che ha finito il suo giro qua io vedo io guarda adesso mi viene alla fine la scelta ecco perché ho detto per pochissimi ma pochissimi ma veramente si contano è come per dire rimango vado fuori però non lo so vedi anche questa la carta sempre più sul me ne vado fuori lui anche ha bisogno di di ripresa di riprendersi lei vive un po di più questo senso di abbandono di solitudine non lo so forse la lei ha meno persone intorno quindi diciamo quella che c'è un po di sofferenze più anche per via di quel 5 di spade io l'ho visto però lei vive il questo rapporto questa fase del rapporto la vive in maniera più matura cioè se c'è da soffrire si soffre vediamo un po se questa è una situazione in evoluzione o definitiva come se fosse un accenno del febbraio ma no comunque vedete c'è da un punto di vista se qua deve arrivare ribadisco se come deve arrivare qualcosa vi arriva c'è anche questioni da mettere a posto però al lato sentimentale io ci vedo qua i sospiri tutte queste spine alla donna la donna così e vedo lui sembrerò niente ragazzi la vedo una cosa un po sul lungo periodo poi non lo so questo è il mese di gennaio chiesto un piccolo accenno del febbraio inizio febbraio così è lui il disturbo la prigioniera lotta non so avete beccato qui c'è un soggetto maschile molto molto rabbioso molto sei così cattivo incattivito non vediamo tu come starai ma un percorso ragazzi quando c'è una separazione cioè c'è una separazione sembrerà un po di dolore dover attraversare un tunnel con dei momenti diciamo di sconforto però un qualcosa di di passeggero se qui hai dei momenti di sconforto c'è comunque lo stare sulle difensive può essere che tutte e due ricordatevi la primissima carta era quella era quella dei nemici donna bruna potresti essere tu il passato ridere di gusto mamma mia ragazzi è come se qui la donna soprattutto se c'è la don se sia una donna bruna la donna deve riprendere il a divertirsi passato come se qui la donna in passato aveva questa qualità di essere ironica non lo so che cosa ha perso siete un po come essere caduti in un burrone in un tunnel non lo so un po vedete questa carta qui un po di di venirne fuori siete stati colpiti quindi qui si può accusare si può accusare il colpo però dall'altra parte sappiate che avete una persona che accusa che dà fastidio che vediamo se si calma questa persona la fuga no più che altro questa persona tenderà a scappare allora per la donna sarà questa chiusura sarà da brindare da una parte una prova dall'altro cioè ci saranno delle chiare prove c'è la carta e la prova di rimettersi sulla strada di ricominciare però vedete che pelle la cura di sé il piacere qui come se quella donna deve ritrovare sai proprio la sua la sua indipendenza però io volevo dirvi quando ci sono questi periodi qui bisogna entrarci dentro non bisogna fare finta di niente non bisogna far finta di fare chiodo scaccia chiodo cioè poi chi lo vuol fare lo fa però insomma con la consapevolezza di quello che si sta facendo ah vedete ragazzi mamma mia ma ragazzi c'è non lo so certe volte le stese guarda fa quasi paura perché io sono in una stanza come dire che c'è qualcuno che mi sta dicendo mi parla in una stanza ragazzi c'è per l'ennesima volta abbiamo persona chi vuol speculare persona che vuol fare le cose alle spalle o chi vedete 4 4 se ne va però come se poi viene visto viene vede ruba le lame ma ma si fa male lui perché prende le spade per le lancia arma doppio taglio però per l'ennesima volta c'è la rottura c'è il tre di spade ragazzi eh però c'è la chiusura ma io può avere il nuovo inizio cioè ritrovare la forza di nuovo inizio ok quindi cioè ragazzi cioè se ho detto per pochissimi ci può essere che rimane in piedi rapporto qua stiamo parlando proprio di insomma di poca poca gente poca gente perché la maggior parte io ribadisco se c'è qualcosa che dovete avere riavere eccetera eccetera io vedo che qui la otterrete ma dal punto di vista sentimentale io la vedo ma non lo so come se qua di sentimenti non ce ne sono più cioè le carte più le interrogo qui non lo so è come se fosse una coppia che sta insieme ma io ho detto che sì si parla di un uomo di una donna mi era usciti sì il sentimento ma non perché mi è riuscito un asso di coppia però la maggior parte di tutte queste carte che ho dato non lo so è come se mi parlassero come se questi stanno insieme sono stati insieme ma non per amore perché ho avuto anche carte cioè non so rapporto un rapporto che sta in piedi di di asti o di di controparti quindi cioè vedi tu siccome io ho detto nome una donna lui una lei non vorrei che questa stesa andasse poi a scivolare su altre questioni che non sono meramente diciamo sai proprio di proprio di coppia ok perché le vedo cioè come se si vedo lei che c'è più sai un po di amarezza e cinque di spade ce lo vedo in lei però non è una classica stesa di di amore di 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 troppa lotta troppo contrasto o è un rapporto diciamo affettivo veramente conflittuale sai proprio all'ennesima potenza capisci però io qua carte di carte di amore non le vedo anzi vedo rabbia soprattutto da lui proprio vedo lui ma l'ho inquadrato anche come personaggio ricordatevi che in una delle stese qualche ho fatto mi usciva mi usciva il diavolo come carta finale riassuntiva che eccolo qua in una delle stese che ho fatto ragazzi questa non è una stesa che mi parla di un anno di due anni perché non ho fatto poi la domanda finale sulla storia se definitiva perché questa è la stesa sul mese di gennaio però volevo dirvi una cosa le storie apri chiudi ci lasciamo ci rimettiamo per la mia esperienza le storie con lo stem by in mezzo io personalmente le sconsiglio meno che poi soprattutto quando di mezzo insomma non ci sono figli in queste cose qua però capite cioè io come consiglio meglio fare un rapporto intenso anche se periodicamente diciamo conflittuale quello che sia però tu capisci che nella continuità perché tu nella continuità del rapporto valuti se c'è la compatibilità se incomincia a fare landi rivieni che sto insieme ma non ci sto ma poi ci sto ma poi ci ritorni eh grazie che fai a periodi non è il rapporto è una cosa di comodo non esiste non ci credete in questi rapporti saltuari nemmeno in quelli che vi chiamano una volta ogni venti giorni infatti non lo chiamo se bisogna conoscere frequentare qualcuno e ci sono fratture io qua la vedo una io la vedo la frattura nel mese di gennaio però non ho fatto la domanda se è una frattura definitiva per appunto per rimanere nel tema del mese di gennaio mi spiego però quando se ci sono stand by chi vi mette in stand by chi vi vuol mettere in stand by cioè chi vi vuole vi vuole sempre anche se c'è il conflitto la persona sta nel conflitto cioè sta voglio dire non nel conflitto come posso dire la persona si accolla il periodo no e manda avanti manda avanti la situazione quando vi vogliono mettere in queste posizioni scomode diciamo se poi va bene a voi che ne so però sappiate che di solito non non è non è favorevole quindi è meglio non lo so io sono per scoprire subito tutti gli alterini che non incominciare a fare un infinito rapporto di di stand by i ritorni o dentro o fuori secondo me quindi tutte queste carte di astio mi fanno pensare più a un rapporto in cui una delle due parti non vuole cioè come se qui si 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 discute il tutto e subito perciò c'è tanta rabbia tanto astio anche abbastanza velocità come se qua la chiusura roma arriva tutti insieme noi non vedo con uno strascico sapere di quelle storie di otto mesi che ci sentiamo non ci sentiamo no perché può essere che una delle due parti voglia togliersi sto dente voglia togliersi questo dente e quindi Sì Diciamo che qui uno dei due, forse più lui, della situazione è più scorretto nella situazione perché vedo la figura della spia, dello speculatore, traditore ma non traditore necessariamente che va con le altre proprio di indole, è proprio la persona falsa e comunque ribadisco, se queste persone continuano a sentirsi io qua vedo comunicazioni fredde, dure non lo so, è come se quasi arrivate a un punto di rottura dove non c'è voglia di venirsi incontro eh no nel brevissimo tempo io proprio vedo l'allontanamento ragazzi ho fatto una domanda breve, medio e lungo periodo nel mese di gennaio e non c'è carta che mi faccia pensare cioè vedo sempre di silenzio o astio, silenzio e astio non lo so, io qui vedo come se sia arrivato proprio al punto del dopo tanto scannatorio, dopo tanto litigio queste persone si mettono ognuna si mette in silenzio però c'è uno dei due che ripeto non è proprio di natura così ok allora facciamo una cosa visto che è da parecchio che parlo ripeto se si interrompe il video la stesa è andata, è fatta lo ripeto se ci dovessero essere pochissime persone per le quali c'è una riunione proprio siamo sul limite limite ho fatto una domanda come se chiedessi a una persona completamente esterna di dare un giudizio a questa situazione chiedendo ad un altro mazzo mi viene fuori la torre cioè la distruzione come la chiusura appunto del rapporto il disinteresse la fine del ciclo per l'ennesima volta ma proprio come posso dire per rotto di cuffia per qualcuno vedete la speranzella per avere poi il festeggiamento finale ma qui ragazzi siamo proprio che se ci deve essere ci deve essere un lavoro fatto qua dai il 3 di spade la rottura la base di questa situazione l'allontanamento le parole cattive cattive e nostalgia ci sarà qua cioè scusate parole dure e nostalgia ci sarà qua e ripeto cioè qua gira rigira non vedo molto carte di amore cioè non lo so come se fosse una specie di amicizia e vedo anche un legame bloccato un legame allegato la lei legata la lei costretta la lei indecisa la lei dubbiosa soprattutto la lei dubbiosa proprio proprio di lui è un rapporto squilibrato questo lo posso dare per certo è un rapporto altamente squilibrato che da pensiero che non fa dormire c'è un bisogno di riequilibrio comunque io lui lo vedo rabbioso autoritario cioè proprio litigioso come se fosse tipo attaccabrighi non lo so ragazzi ma io la vedo una situazione troppo di nuovo questo diavolo è come se qui qualcuno si è anche messo a se qualcuno si è messo a remare contro qualcosa fatto di nascosto questo sette di spade mi fa anche pensare anche a un qualcosa di di nascosto che se la vuoi sistemare questa situazione c'è come se c'è qualche chi rema contro non lo so io vedo anche una donna proprio allo stremo dell'energia l'energia della donna allora io vedo un'energia cioè se vuoi sapere se tu sei la donna della situazione e mi dici mamma mia che è la rottura però io per te dopo vedo una storia felice se qua parli se hai inquadrato quello che sto dicendo in una coppia io qua dopo per te vedo proprio una storia felice a meno che non si qui quell'uno per mille diciamo no su mille una ventina che rimane sul rapporto io però vedo la lei dopo felice in unione felicità il sole voglio fare una domanda se sono con i tempi vediamo un po' un po' ho fatto la domanda perché lei ha conosciuto lui e la risposta è perché lei deve imparare a lasciare andare i rapporti d'amore conflitto diciamo rapporti in genere conflittuali otto di spade ci si allontana dal banchetto conflitto e rapporto al contrario la lezione che lei deve imparare a valutare prima vedi qui c'è come una spagnola nella bilancia quella temperanza vedi verso un po di qua un po devo dosare valuta prima di entrare in un rapporto dove stai andando è come se la donna soprattutto qui era in una situazione di di pienezza di controllo della sua vita o che controllo che però poi come se questa donna da sola solitaria e in forza in equilibrio e poi questo equilibrio si perde con quando c'è il rapporto conflittuale come se quel boom poi salta tutto mamma mia al al maschino invece vedo che qua cioè il perché la lezione da imparare da imparare di lui è proprio non lo so qua c'è proprio del sadomasochismo è proprio una diseducazione al rapporto amoroso rapporto amoroso che viene vissuto come per me cioè per lui rapporto amoroso significa soffrire far soffrire mamma mia questa persona sta messa malissimo diciamo che fra i due a livello di equilibrio mentale psicofisico siete messe meglio meglio voi c'è l'energia maschile è malata cioè veramente è malata è comunque come come energia ultima c'è un non lo so da parte di tutti un po lavorare sull'egoismo lavorare sul l'ultima parola detta sulla cattiveria detta comunque ho qua in tutto ciò in tutto questo rapporto non ci vedo un rapporto affettuoso cioè dove di base c'è successo c'è l'affetto solo l'affetto non so può essere che un rapporto che non parli soltanto di di questioni sentimentali però dei due io vedo un uomo rabbioso di due io vedo un uomo rabbioso io vedo un uomo rabbioso ho chiesto se lui si rifarà sentire ma qui c'è una persona immatura c'è l'immaturità come se si con questa persona si comporta come un ragazzino un bambino e c'è ma se si fa sentire perché come se ci fosse un legame tipo morboso ma ma malsano ecco qua se si fa sentire per cosa per la lotta per litigare ma per litigare anche per un qualcosa che dovrebbe essere dato e tu come reagisci vedi la lotta esce sempre di lui ma queste due persone alla fine di tutti questi litigi qua riusciranno a trovare un accordo tra di loro accordo no sì no come posso dire c'era il dono da una parte ma sulla domanda diretta l'accordo mi esce la povertà e la famiglia è come se se quella lotta riguarda proprio non voler dare non dare c'è l'accoglienza c'è la povertà ok cioè è un po contraddittorio ma la seconda carta è la povertà quindi nel breve periodo non si vuol dare ma a livello di sentimento la fuga niente ragazzi la trasformazione come qua la prova il rapporto ragazzi abbiamo parlato per un'ora la fuga la fuga forse qua di entrambi la fuga di lei la scelta lei deve scegliere la fuga di lui lui anche vuol mettere ordine nella sua vita la conclusione di entrambi la forza come se qui tutti e due trovano la forza di lei deve scegliere la fuga di lei la scelta 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 di lei Grazie.